Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Andrea, con la sincerità che tu conosci, ti dico che stamattina quando ho visto questa intervista è stato uno di quei momenti in cui non dico ti penti di aver difeso tante volte certe persone, ma sicuramente comprendi che si perdono di vista alcuni obiettivi e gli obiettivi che si perdono di vista e i più importanti sono che la politica è così attenta ai giochi di palazzo e a difendere il proprio futuro da farci dimenticare, anche con l'aiuto di tanta stampa, quelli che sono i problemi degli italiani. Leggevamo poco fa le prime pagine di alcuni giornali, ce li hai mostrati, le spine di Draghi, i problemi di Draghi. Io penso a quelli che sono i problemi degli italiani e i problemi degli italiani sono problemi che i partiti che hanno dei programmi e che cercano di difendere stanno ponendo e stanno ponendo in modo chiaro, era ora direi, aggiungo, questo vale per il Movimento 5 Stelle, vale per la Lega. Io mi aspetto e penso che più che i problemi di Draghi, i problemi degli italiani trovino risposte. Oggi c'è questo voto che, come dire, completa il percorso alla Camera, è molto ravvicinato il voto al Senato. Io credo che Draghi sia effettivamente intenzione di andare incontro alle richieste dei partiti che difendono le loro battaglie, le loro battaglie storiche in alcuni casi, il reddito di cittadinanza e il bonus 110%, che poi è una roba che non riguarda né il 5 Stelle che lo ha proposto, né le destre né il PD, riguarda decine di migliaia di piccole imprese che hanno fatto dei lavori, decine di migliaia di famiglie che si sono fidate di un provvedimento dello Stato e che se adesso questi provvedimenti si bloccano, non c'è modo di scontare i crediti, non c'è modo di completare i lavori, costringono queste aziende a fallire. Ecco, io credo che siano queste le cose alle quali la politica deve rispondere in un momento in cui c'è una tale difficoltà. Poi i giochi di palazzo e i giochi che rendono questa settimana così cruciale, cioè la preoccupazione che si stia preparando un governo tecnico per la prossima legislatura, creando, come dire, il laboratorio, un centro, un centrino, credo che siano temi che interessino sicuramente i partiti, ma molto meno gli italiani. In questa fase sarebbe più opportuno dare risposta agli italiani. Mi auguro che Draghi lo faccia. Allora, facciamo così così.